Ben ritrovati da Simone Nardone a una nuova edizione del giornale radio delle buone notizie della settimana. Nei giorni scorsi Michelangelo Nania, comandante della stazione dei Carabinieri di Monte San Biagio, ha ricevuto l'onoreficenza della medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare. Viene conferita tra l'altro la medaglia mauriziana con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della Difesa per gli appartenenti alle Forze Armate di concerto con i Ministri dell'Interno e delle Finanze negli altri casi. La medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare, ben riconoscimento che ovviamente riempie di orgoglio sia il comandante Nania che tutte le Forze Armate locali. Una scelta importante che si concretizza in questi giorni perché questa domenica 6 giugno l'Associazione Nazionale Ambulanti UGL parteciperà in piazza San Pietro all'Angelus presieduto da Papa Francesco. Lo hanno comunicato nei giorni scorsi Ivano Zonetti, Angelo Pavoncello e Marico Rosato rispettivamente Presidente, Vicepresidente Vicario e Secretario Nazionale di Ana UGL che ci hanno tenuto a precisare come la loro presenza rappresenta una richiesta al Papa di aiuto morale per l'apertura dei grandi appuntamenti religiosi che fanno parte della tradizione storica anche locale. Infatti proprio da Ana UGL si ringrazia anche l'Arcidiocesi di Gaeta e in particolar modo il Vescovo Luigi Vari. Le parrocchie di Itri di Santa Maria Maggiore e San Michele Arcangelo lanciano il pellegrinaggio itrano di Sette Sabati, un appuntamento che inizia proprio questo sabato 5 giugno e che si snoda nei Sette Sabati antecedenti la festa della Madonna della Civita. L'appuntamento ogni sabato è sempre la mattina molto presto per percorrere l'antico sentiero ed arrivare al santuario per la Messa delle Sette presieduta dal parroco con tanto di supplica alla Madonna della Civita. I dettagli sul nostro sito web. Una buona notizia per i cittadini di fondi della zona San Magno che nelle scorse ore hanno ricevuto la notizia che finalmente verrà messo in sicurezza il ponte Colle Troiano in zona proprio San Magno. la Direzione Infrastrutture e Mobilità della Regione Lazio ha stanziato ben 450.000 euro per la Messa in Sicurezza del Ponte e anche per i relativi lavori. Questa era la nostra ultima buona notizia della settimana. Un saluto da Simone Nardone a risentirci alla prossima edizione proprio del GR e delle buone notizie. Grazie. Grazie. Grazie.